Allora, oggi c'è ampio spazio sui giornali, sulla notizia della chiusura da parte di Facebook e Instagram. Vedete dei profili di Casa Pound e Forza Nuova, formazioni di estrema destra che hanno diffuso e promosso odio. Nello stesso tempo negli Stati Uniti è stata aperta un'indagine antitrust nei confronti di Google, sospettata di posizione dominante, due fatti che si intrecciano alla questione dell'informazione in rete. Il tema è quello dell'attendibilità delle notizie sui social per promuovere un'alleanza contro le fake news. È stato inaugurato alla LUIS un nuovo centro di eccellenza, Aleteia, significa verità in greco. Ne parliamo con il direttore generale della LUIS, Giovanni Lostorto, buongiorno. Buongiorno. E con Alberto Rabbacchin del Dipartimento Media della Commissione Europea, buongiorno anche a lei. Allora, direttore, come si riconoscono le bufale sul web e come l'università può aiutare tutti noi ad orientarci? Su come si riconoscono il motivo vero per la creazione di questo laboratorio, Aleteia, che nasce all'interno del nostro LUIS Data Lab, di fianco alla scuola di giornalismo, e cioè si riconoscono acquisendo sempre maggiore consapevolezza sul fatto che possano esserci delle bufale. E allora, per acquisire consapevolezza, ciò che è centrale sempre è il ruolo degli istituti della formazione. Sin dalla scuola, dai primi anni di scuola, e poi più avanti, in modo ancora più importante, nell'università. Il ruolo delle università è quello di fare in modo che la formazione non sia, diciamo, ancillare rispetto alla urgenza di capire con che informazione si ha a che fare. Bisogna formarsi ed essere consapevoli che maneggiare l'informazione è qualcosa di molto importante e di particolarmente serio. Rabacchini, il fenomeno delle fake news è mondiale. Sono gli stessi stati a utilizzare le fake news come viene fuori dal Russagate? Sì, ci sono vari attori nel mondo della disinformazione. Ci sono attori esterni, quindi esterni all'Unione Europea, ma ci sono anche degli attori che si muovono internamente. Per questo, circa due anni fa, anche a seguito dell'influenza o dell'attentata influenza russa sulle elezioni americane, la Commissione Europea ha deciso di intraprendere una strategia contro la disinformazione. Sono passati adesso due anni e abbiamo raggiunto dei risultati. Non possiamo dire che le elezioni europee siano state completamente libere da disinformazioni, però possiamo certamente dire che la nostra azione ha sortito degli effetti positivi. Ci sono state una serie di revisioni da parte di istituti indipendenti che hanno mostrato come l'azione... Cosa avete fatto, ad esempio? In concreto, penso che la cosa più concreta sia aver facilitato l'adozione da parte delle piattaforme principali, quindi parliamo di Facebook, Google e Twitter, di un codice di buona condotta, dove le piattaforme si impegnano a ridurre i soldi che vengono dati a siti che sono deliberatamente portatori di fake news, quindi la pubblicità non andrà più su questi siti, si sono impegnati a ridurre gli account fasulli, i profili fasulli sulle loro piattaforme e hanno promosso molta trasparenza dal punto di vista della pubblicità politica. Quindi adesso abbiamo un grande archivio dove sono raccolti tutte le pubblicità che i partiti o i candidati hanno comprato. Ecco, ma secondo voi Facebook e Instagram hanno fatto bene a bloccare i profili dell'estrema destra, parto da lei direttore? Hanno applicato le regole, noi quello che dimentichiamo, io dico sempre quando scartiamo lo smartphone che ci viene regalato, che regaliamo, facciamo la rincorsa a digitare sì, d'accordo, sì, I agree, I agree, d'accordo, autorizzo, perché non possiamo deludere chi ce l'ha regalato e non utilizzarlo perché dovremmo buttarlo altrimenti. In quell'accettazione stiamo sottoscrivendo moltissime adesioni a norme di contratto. Anche quando si attiva, si scarica un social network, ugualmente si accetta una serie di condizioni. Tra queste probabilmente c'erano quelle che ieri le piattaforme hanno applicato. Secondo lei? Sono pienamente d'accordo. In questo codice di buona condotta che le piattaforme hanno firmato si sono impegnate appunto a far sì che i loro regolamenti siano rispettati. Questo era un punto molto importante e quindi è una decisione di Facebook in questo caso che ha valutato il comportamento di questi profili e ha deciso di chiudere. È vero lo storto che la maggior parte dell'informazione passa attraverso i social e che ognuno di noi in qualche modo riceve le notizie che confermano la propria visione del mondo? Beh, è una dimensione con la quale abbiamo cominciato a fare i conti e rispetto alla quale ci stiamo confrontando. Addirittura li creiamo. Cioè noi creiamo quelle informazioni e poi andiamo probabilmente a cercare su un motore di ricerca una conferma alle informazioni di cui probabilmente pensiamo di essere già in possesso. Ancora una volta, la grande, enorme, immensa quantità di dati con cui facciamo i conti è determinante. Pensate che i dati su cui lavorerà Aleteia con i ragazzi da scuola del giornalismo e con il data lab della LUIS sono racconti per il 90% negli ultimi due anni. E sempre di più questa massa di dati crescerà. Allora, acquisire strumenti per saper maneggiare i dati e poi leggerli consapevolmente è una delle chiavi per poter fare il proprio lavoro in modo migliore. I corsi che partiranno saranno sia per la pubblica amministrazione che per i giornalisti dei corsi gratuiti. Ecco, allora, per chiudere, ci sono delle buone pratiche da seguire per evitare che siano proprio gli algoritmi a influenzare di fatto l'opinione pubblica? Innanzitutto bisogna essere coscienti che ci sono questi algoritmi. E spesso non lo siamo. E poi quando leggiamo qualcosa, soprattutto sui social media, dobbiamo cercare di capire il contesto. Da chi sono stati scritti, come sono stati propagati. Molto spesso vengono utilizzati dei sistemi automatici per far sì che questa informazione sia prominente nei social media, che quindi venga vista da tutti. Ma non è in realtà che ci siano tante persone che la vedono, ci sono dei sistemi automatici che le amplificano. Grazie, grazie per essere stati con noi. Buon lavoro, è il caso di dirlo. Esatto.